Buon giorno a tutti signori, Vagel per la Padova, ci occupiamo di post montaggi e installazione di accessori originali Originali, sul gruppo Volkswagen Audi, in particolare sulle Audi Allora signori, oggi siamo qua con una bellissima Audi A1 A1, è quella qua A1 del 2019, se non sbaglio Come, e come avete potuto vedere dall'intro, la parte di specchi Ma è solo manuale Di conseguenza oggi andiamo a installare gli specchi richiudibili elettricamente Signori, www.vagelper.com, abbiamo il nostro sito, il team lo mette qui sia in descrizione sia a fare il banner Ci potete contattare per questo genere di montaggi, quindi post montaggi e consulenze, consulenze e lavorazioni sulle vostre Audi Vi faremo la parte di preventivo, ovviamente poi ci vedremo direttamente per l'installazione qui a me a Padova, mi raccomando Allora signori, oggi cosa andremo a fare? Su quest'Audio A1 faremo un sacco di cose, quindi torniamo...